Regà è gigante! E' la skybase più grande al mondo! Guardate quanti materiali sono! A me non me la renderizza tutta! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi presenterò quello che abbiamo fatto Nella live in cui appunto abbiamo giocato Alla modalità parco giochi E' stata una live bellissima eravate in 12 14.000 spettatori E' stato qualcosa di assurdo Ed è stata l'unica partita che ho fatto Nella modalità parco giochi perchè la Epic Games Ha deciso di toglierla subito Dopo quella partita cioè noi praticamente Sia stati gli unici o quasi In Italia che ve l'hanno portata in stream Io almeno pensavo che un giorno durasse Già a mezzogiorno la modalità era sparita Ed era uscita alle 11 e mezza 11 e qualcosa Comunque la modalità in se per se è molto bella Per farci appunto quello che ci abbiamo fatto I live eravamo in team io, Nicolino, Galli e Miga E abbiamo fatto questa skybase enorme C'è stato anche un fail Un fail che ho fatto io Perchè ho praticamente distrutto la skybase Senza accorgermene Praticamente eravamo attirati a pinnacoli Per vedere il nuovo edificio Gli abbiamo fatto una skybase Io volevo piazzare la nuova trappola Quella blu, la bouncer Per appunto saltare in alto la skybase Più facilmente Però ho distrutto le scale Quelle che colleghavano alla skybase E il server stava per crashare Era successo il casino più totale Comunque vi consiglio di condividere con tutti i vostri amici Questo video per farvi vedere anche loro Questa skybase enorme E oltre alla skybase enorme abbiamo quasi fatto crashare il server Quando io per sbaglio l'ho distrutta O almeno ho distrutto la prima parte della skybase Un bel pollicione in su a questo video E se ne volete altri simili Un'iscrizione al canale E attivate la campanellina per non perdervi i prossimi E vi lascio alla partita Non dico più niente perché ho già detto troppo Questa è una mappa in cui trovare tutte le casse con i carrendi I server sono on I server sono on? Sono on Io su play sono there Attenzione momento storico raga Server online Calmissimi Server vanno Riavvio tutto No raga non ci credo Server online Si Si Oh mio dio cos'è sta figata È cambiato tutto Un nemico metastrada E parco giochi raga Giochiamo subito parco giochi Vi invito eh Vi invito state online Wow abbiamo Wukong Che figata raga Che figata Abbiamo Wukong Raga siamo Siamo 14.000 spettatori Siamo in Grazie mille letti Alex Oh mio dio Raga raga passate la doppia pistola Grazie mille Non ce l'ho io la doppia pistola Oh mio dio ma cos'è Che figata Raga guardate vi faccio vedere Poi lo primo Mi sei qualche Aspetta Ma è una figata aspettate Togliti dai Ecco guarda vai Madonna quanto toglie Cioè ma cosa che bisogna fare Raga guardate Mancano 51 minuti Siamo solo noi Siamo solo noi Siamo solo noi E' un sandbox grandissimo È vero siamo 4 persone Raga ditevi ci voi cosa dobbiamo costruire Diteci voi cosa dobbiamo costruire Io sto facendo una roba enorme Se riuscite non disturbano Siamo salta raga Nico la vedo La vedo gigante E tu sei piccolissimo là sopra Io adesso metto i voti Io adesso metto i voti tra Coprire l'intero cratiero di magazzino muffito Coprire l'intero lago Fare un castello che copra tutto pinnacoli pendenti Oppure fare una mega skybase che copra tipo un quarto della mappa Tutta gigante in aria Tutta la skybase raga in 47 minuti potremo coprire anche tutta la mappa Pensate a tutta la mappa E' tranquillo Tanto basta suicidarsi Cadi giù e ritorni su Non ritorni su Sì sì tranquillo Io 999 dobbio in materiale dove iniziamo Vai miga Io ho fatto già le scale per partire Le vedi? Le mie scale Oppure facciamo quelle di Nico Usa quelle di Nico Ho rotto un albero Ho già 782 Vai rega Vai rega Ma con il carrello si sale più velocemente? No 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 Anche più lentamente Rega io pensavo che fosse una modera tipo competitiva Dove dovevamo affrontarci in tanti team Invece siamo proprio in quattro Ma in tutto questo Noi siamo in 13.000 spettatori Però ho tanto pinnacoli Ma scusate io non ho capito sta cosa dei carrelli Cioè tu sfondi le siepi Cioè scusa non sfondi le siepi ma sfondi i pali Non ha senso Cioè i pali di ferro E ho capito però Non ha senso Ok vai rega Vai rega Oh mio dio guardate quanto sta diventando grossa la vostra skybase Sale la velocità uguale Io ora sapete cosa faccio? Porto il carrello per tornare Lo porto su Così qua Così quando devo prendere altri materiali Stavo prendendo ragazzi con i due Se cadevi madonna Se cadevi Ciao sei grande Ciao Diana Guardate raga che progetto che stiamo facendo Una skybase gigante per tutta la mappa raga Almeno 122.000 iscritti Per questo progetto gigante raga Tutti devono attivare la campanellina Io sto coprendo tutta pinnacoli Grande 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 Guardate raga noi cosa stiamo facendo Tutta una skybase che continua per tutta la mappa Raga lascio il carrello qui davanti all'entrata Allora facciamo così Io vado verso il nord Verso sponde del saccheggio Parco pacifico E queste città qui Voi Allora tu mica andate verso est Che è la parte più grande da coprire Raga se qua si cade Cioè qua per cadere Proprio bisogna essere dei polli Nico Nico ti lascia i miei materiali Vado a prendere altri va bene Per cadere se deve essere dei polli Sono cadetico Vi ricordate del jet pacifico Io spero che li rimettono Perché era una figata incredibile Raga guardate quanto stiamo coprendo Mio dio uno strato gigante Dopo raga mi butto giù E respuo uno a pinnacoli Il carrello comunque non si è distrutto Ah non si è distrutto Ok raga io ho finito i materiali Vado giù Oh mio dio guardate quanto è grossa È gigantesca raga È gigantesca Oh mio dio Sì lo so mi sono tirato giù È una sky base gigante Oh mio dio Madora raga Si vede tantissimo che state costruendo Fate tre fila da volta No raga non due Tre fila da volta Chi ne sta facendo due? Si può fare si può fare Basta che sposti la visuale Mentre buildi Raga ho un'idea Faccio in questo modo Vado ancora più avanti Ovviamente le cose da tre Sono molto più veloci Le costruzioni da tre Intanto decido di farle in questo modo Faccio un po' a caso raga Tanto costruire Non è importante Ok io ho finito Un secondo raga che invito Io io Madora rega quanto è grossa Quanto è grossa È la sky base più grande Che abbia mai visto Cioè non vedo nemmeno Pinnacoli La state coprendo Guardate quanto è grossa È gigante Oh mio dio Raga ho un'idea Ho un'idea Ho trovato le nuove Butta fuori Se noi le mettiamo All'inizio della sky base E praticamente per morire Cioè al posto di morire Ci giampiamo giù Verso pinnacoli Basta prendere i materiali E non moriamo E praticamente ci mettiamo di meno Voi che dite? Scusa se non fai un buco di fianco alla scala E ti butto da lì Eh Miga vieni qui Sei giù cazzo No no sono qui Ma non ho mai raggiunto Allora ho un'idea Io cazzo Fuori il carrello Piazza sotto Una butta fuori Così mi da anche il busto Per partire No miga La butta fuori A sto punto Me la tengo io Perché ho un'idea originale No dammene uno dai Va bene va bene Non c'è ragione Dai vieni qui No Ti ho lasciato lì per terra Vicino alla scala Raga il carrello Ok all'inizio giusto Sì sì all'inizio All'inizio Allora qua devo piazzare Questo e questo Perfetto Guardate un po' Guardate un po' Raga cosa sto facendo Sta roba È utilissima Sta roba è tipo strautile Adesso iniziamo Ancora così con il carrello Poi qui Allora ho un'idea Qui aspettate Lascio il carrello In questo modo Così non cade Perfetto Così sta fermo Esci Non posso uscire Perfetto salto Qui raga Facciamo in questo modo Piazziamo praticamente Una piattaforma Tipo così Qui sotto Qua la scala La leviamo Qua la scala La leviamo La scala La leviamo No Sbacchire skype No L'è noto tutto Perché Niente Perché 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 l'hai fatto Raga No scusate ho sbagliato Ma il server si sta sovraccaricando Raga sta laggando il server Sta laggando il server Ho sbagliato raga Ma tanto adesso la facciamo più bassa Abbiamo ancora 20 Abbiamo ancora mezz'ora raga Tranquillissimi Oh ca... No non posso Non posso costruire Non prendo danno da caduta Sta laggando tantissimo No sta laggando tutto No raga sta laggando un botto Chissà perché Raga 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 lo so Eh ho sbagliato Cioè secondo me ci sta di più Eh la facciamo un po' più in alto Di quanto la sto facendo adesso Scala doppia raga Scala doppia Così non rischiamo di fare La cacchiata che ho appena fatto Ma come hai fatto? Cioè Cosa volevi fare? Mi son dimenticato Volevo piazzare un'altra bouncer Per arrivare molto più velocemente E praticamente Non lo so Mi son scordato del fatto che ci fosse Sì raga lo so che sono ritardato Tranquilli Lo so lo so Ho fatto una cavolata Che tipo È da record raga È da record Allora qua ne faccio un altro In modo tale che potremmo piazzare un'altra bouncer Altro che la skype è il più grande Allora adesso però facciamo Facciamo La facciamo in ordine Ordinata E ci mettiamo alla metà del tempo Vi faccio vedere perché Oh Sì c'è una bouncer Adesso Vi faccio vedere perché Io ho dei bug grafici nella mappa Allora La facciamo da questo livello Ognuno fa tre file Io vado verso nord Ok Vado la raga che fail Della madonna che ho fatto Mi giuro mi sto vergognando Un botto Perché è un fail Mega atomico Qui raga c'è lo spazio per mettere le bouncer Così arriviamo E scendiamo molto più velocemente Qui Qui mi serve un'altra bouncer Lascio il carrello Cade Cade No ma perché Perché lo lasci Ma perché Facciamo così Fate Fate come sto facendo io Andate verso nord In questo modo Va bene Vai raga Oddio sta venendo lunghissimo Perfetto Raga il mio è un ponte Non è una Non è una cosa Come si fa a regolare Intanto il chef Se riesci in modo Della lasciata Anche se ovviamente difficile E leggila No raga A nord vado io A nord vado io L'ho già detto Raga c'è uno dove Che sta costruendo nord Sto facendo Sto costruendo così Ma stai andando verso nord Ma chi è Ah è Galli E su qua E sto espandendo caso Eh esatto Stai andando verso La mia direzione Ok Raga è come una privata Sì tipo un server privato Esatto Esatto Raga qui sapete Quante cose si possono fare Quante idee originali Per video possiamo trovare E raga vado verso Un'altra direzione Mamma mia raga Che skybase gigante Voilà raga Qua metto l'ultima Piattaforma Di questa skybase gigante C'è il fuoco amico Sì Ovviamente raga Oddio sto andando Riprendere il carrello Raga Io non vedo la fine Io non vedo la fine Della skybase No Carrello No Oh mio dio Ho preso il carrello in mano Ho preso il carrello in mano Eh niente Ok raga Sta arrivando la safe Niente Non c'è un punto preciso Penso che si chiuda Verso il centro della mappa Raga Sì guardate Sta arrivando Sta arrivando Ah dove c'è la scala Raga è gigante È la skybase Più grande al mondo Guardate quanti materiali sono A me non me la renderizza tutta Sto arrivando Ragazzi è arrivando la safe Da me A pinnacoli sta arrivando la safe Lo so lo so Ho visto Ho visto Oh mio dio raga Siete pronti ora al lag più totale Sono Siete pronti Sto spaccando Siete pronti A lag Vai Quella di tomato Quella di tomato Nico 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 Rompila Eh lo so Gali non si respawna Non si respawna Eh Gali sei morto del tutto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Raga ma Abbiamo vinto Cioè abbiamo vinto Cosa vuol dire Che abbiamo vinto raga Raga Cioè praticamente In teoria What the fuck Vabbè raga Abbiamo fatto la skybase Più grande del mondo Non l'abbiamo distrutta Ma tanto Quella di prima L'avevamo già rotta Quindi tranquilli Abbiamo visto che lagga tantissimo Io vi ringrazio tantissimo Per aver visto il video Fino a questo punto Vi ricordo di lasciare un bel like E condividerlo con tutti i vostri amici Se ancora non l'avete fatto Vi ricordo di lasciare un bel like E condividerlo con tutti i vostri amici Inoltre iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Per non perdervi tutti i prossimi video Detto questo Noi ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao